Adesso facciamo la Dear List dei Pokémon scelti nei preferiti Musica Musica Pokémon Pokémon Rosso Allora Partiamo con Mario Sturniolo Allora Mario Sturniolo 10 Pokémon Pazzeschi Veramente pazzeschi Ha fatto tante scelte Menzione particolare per Gliscor Scelta di cuore Per non fare finta come tutti gli altri Che questi preferiti siano determinanti Per giocare la pill Passiamo al prossimo Creepy Live Per quanto riguarda la scelta dei preferiti Io gli do 0 Secondo me non capisce un cazzo Andiamo al prossimo Matteo Agostini Matteo Agostini Per quanto riguarda la tier list delle scelte Io gli do 10 al maestro 10 più Perché mio fratello in primis Secondo me ha fatto delle bellissime scelte E anche particolare l'accordo che abbiamo fatto Dove io l'ho aiutato E lui ha aiutato me Andiamo avanti Andiamo avanti Poli A Poli per quanto riguarda i preferiti Gli do 1 Secondo me Si vede che condivide molto share Con gli spettatori di Creepy Non capiscono molto di Pokémon Questi ragazzi Secondo me dovrebbero ripassare un po' Però gli do 1 perché quantomeno ho organizzato questo splendido contenuto E mi ha dato anche la possibilità di occupare parte della mia live Per teorizzare le tier list Ora parliamo Droad Thunder Bastardo di merda Giove? Ha detto Bastardo di merda Mi fai schifo Ok Droad Thunder Gli do 0 E 0 meno E Per me è una persona ripugnante Ma senza mettere Del personale Vi dico che Aveva Aveva fatto La scelta di tutti gli starter E poi ci ha rubato Emilia E' per questo che gli metto 0 Meliador Gli metto Gli metto 5 Ragioni Misogene Gli avrei dato 10 Però è misogino Andiamo avanti Con La mia tier list Nanni Twitch Gli metto Vocale Determinante Più Visto che Abbiamo parlato tanto Del valore di questo vocale Ho deciso di fare La tier list Dei pokemon Da 1 A vocale Determinante Perché Senza il suo Vocale determinante Non se ne è mandati Da nessuna parte Quindi consideratelo E Un vero e proprio 11 Va bene? E Passiamo adesso A Dario Moccia E Secondo me Il suo voto è Dress Rosa Più Più E Ovviamente Mi sembra Mi sembra il caso Di 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 Parlarne E Dario Ha fatto Secondo me Una bella scelta Di pokemon Preferiti Per questa Pill Adesso Passiamo Al Prossimo Leonardo Gli Gli do Gli do Aspetta Ok Ho deciso di dargli 8 Perché Perché Il nostro fratello Secondo me Ha scelto Dei pokemon Entusiasmanti Per quanto riguarda Questa Per quanto riguarda Questa Questa competizione Adesso Andiamo avanti Con la prossima Scelta Mattia Atrix In 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 giudicabile Perché Non era presente Perché Aveva Assolutamente Meglio Da fare Io infatti Scemo io Che mi sono presentato Potevo anche Non farlo Grazie Mattia Andiamo avanti Con la prossima Tier list Chi manca Manca Turna 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 Gli do 10 Perché ha deciso Di non partecipare Una spanna Sopra tutti gli altri Andiamo avanti Con La prossima Il prossimo Jov Quindi Tra parentesi Sdrumox Gli do Gli do Gli do Gli do 10 Come Gli do 10 Come voto Per Il No Al Masseo Io vorrei Scambiare Se possibile Magneton Per Drapion No Asbrega Quindi Ah ok Quindi gli do Asbrega 10 Asbrega 10 Gli do Al Masseo Per quanto riguarda Il Masseo Kingdra 97 Se c'era un pokemon Da Avere per forza Nei preferiti Come dice Meliador Quello è Kingdra Quindi Gli do Visto il pokemon Bello Gli do 7 Ok Perfetto Facciamo Un altro Dread Dread Gli do 8 O meno Secondo me Poteva fare Meglio Tante debolezze Tante resistenze Ma soprattutto Tra tante mosse Efficaci E a livello Di best Stats Tutti i pokemon Sopra i 200 Ma Anche Meno di 9 100 50 Quindi secondo me 8 meno Per Dread Ci sta Benissimo Dread Come Bielsa Alla Lazio Veramente Veramente Adesso Andiamo Avanti E Manca Qualcuno Berry TV Berry TV Senza Voto Senza Voto Non ha Partecipato Ok Andiamo Avanti Manca Manca Saidonia 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 Gli do Porco De dio Cane Ladro A Saidonia Andiamo Avanti Cody Cody Secondo me Harry Potter Tra parentesi Non dormo Da tre giorni Penso che abbiamo finito Con questa tier list Fatemi sapere Se siete d'accordo Se non siete d'accordo Ragazzi Ovviamente Vi chiedo sempre Un piccolo momento Di rispetto Perché tutte le opinioni Sono valide Spero che voi rispettiate La mia Perché ci tengo Se non siete d'accordo Si può sempre fare Con rispetto Ricordiamolo Spero che vi sia piaciuta Questa tier list Ragazzi Mi sembrava il minimo Essendo anche io Uno streamer di Pokemon Fare qualcosa Riguardo Questi Questi Acchiappali Tutti Peace